L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Damocoppola ha individuato tra gli interventi prioritari quelli tesi a migliorare la vivibilità del centro cittadino. Si punta infatti ad intervenire su piazza Vittorio Veneto e su piazza Nasseria, ponendo in essere interventi di riqualificazione delle aree pedonali e a traffico limitato del centro cittadino, con l'obiettivo di rendere più accogliente l'area pedonale affinché funga da volano ad uno nuovo sviluppo economico della città. La somma necessaria, pari a 265 mila euro circa, è già disponibile in bilancio quale residua di tre vecchi mutui contratti con la cassa depositi e prestiti. Il principale intervento riguarderà piazza Caduti di Nasseria, per la quale è stata prevista una ridistribuzione degli spazi con rifacimento della pavimentazione, sistemazione e rifacimento della fontana, installazione di panchine. Gli ulteriori interventi consisteranno nella rimozione delle panchine a mezzaluna esistenti in via Piave, che verranno sostituite con altre di arredo urbano. In piazza Vittorio Veneto verranno posizionate invece delle panchine intorno ai due albere di Magnolia. E ancora verranno rimosse le panchine monolitiche in marmo presenti su Corso Garibaldi e ne verranno predisposte altre di arredo urbano, come quelle di via Piave. Inoltre verranno predisposti alberi e piante distribuiti nelle diverse aree. Si tratta di un restyling, afferma il sindaco Adamo Coppola, che mira a ridare vitalità e dignità al salotto e cuore pulsante della città per un centro cittadino più accogliente e gradevole.